Cari amiche e cari amici, articolo di Francesco Lamedola, titolo Ora si vede chi ha una coscienza e chi no. La vicenda dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 è stato un esperimento pienamente riuscito per chi l'aveva studiato in anticipo. Già da alcuni anni tirava una bruttissima aria in tema di libera informazione, vaccinazione, ideologia gender nella scuola, immigrazione e per i credenti di sopravvivenza della vera dottrina entro la vera Chiesa Cattolica. Eppure, dopo ogni stretta da parte del potere, dopo ogni forzatura da parte dei media, benché sempre più costretti sulla difensiva, sempre più isolati, le persone ancora libere e fiere decise a non arrendersi, avevano conservato un filo di speranza di poter resistere dietro l'ultima trincea, di poter tenere duro fino a quando chissà un'inversione di tendenza non le avrebbero liberate dall'assedio e messe in grado di uscire e tornare a respirare e a vivere nel senso pieno della parola. La mamma che voleva evitare la vaccinazione obbligatoria per il proprio bambino o il credente che voleva risparmiarsi lo spettacolo di una messa rock con un prete buffone che canta bella ciao, bella ciao e dice agli astanti di non recitare il credo perché lui non ci crede, ebbene aveva individuato ad esempio una chiesetta fuori mano dove c'era ancora un sacerdote di quelli a posto e la persona che si era stancata di ascoltare, pagando oltretutto il canone obbligatorio della RAI, tutte le menzogne dei vari telegiornali e quelle altrettanto sfrontate dei quotidiani, dei periodici, aveva imparato a tenersi informato grazie a alcune piccole radio, televisioni, indipendenti e soprattutto per mezzo di alcuni siti internet, blog e canali youtube. Insomma, sia pure con fatica, il cittadino determinato a conservare la propria libertà di giudizio e a rimanere fedele al proprio modo di vivere era ancora riuscito a farlo, anche a costo dell'isolamento sociale, visto che perfino molti amici, molte persone di cui aveva stima, fiducia, avevano imboccato con sempre maggior decisione l'altra strada, mostrando oltretutto un atteggiamento di perplessità, se non anche di critica maldissimulata nei suoi confronti, sospettandolo di essere diventato un po' esagerato, un po' complottista, forse anche un tantino paranoico. E non stiamo parlando di piccoli disagi, ma in parecchi casi di grosse difficoltà esistenziali, perché a volte questi altri che non capivano, che si adattavano, che lo criticavano, erano proprio i suoi stessi amici, i suoi stessi parenti. Adesso però, dalla fine di febbraio 2020, con la piena entrata in vigore dei decreti legge varati a raffica dal governo Contebis, che nel giro di un attimo hanno spazzato via decenni di vita democratica e garantie costituzionali, e dopo che una buona fetta della popolazione ha mostrato di non cogliere affatto la gravità di questi decreti, accettando di sottoporsi a limitazioni inaudite, anche sul piano lavorativo e perciò della sopravvivenza economica, spesso mostrandosi grata ai governanti che imponevano tutte queste limitazioni. Tutto ciò conferma che la maggioranza delle persone è disposta a credere a tutto, a subire tutto, ad approvare tutto, e mentre il governo sta per varare la legge più malvagia, più liberticida della storia repubblicana, la legge Zan Scalfarotto, senza che nessuno, e dico nessuno, né il Parlamento, né fuori, e nemmeno nella Chiesa Cattolica, ha mostrato di preoccuparsene più di tanto, ecco che già viene annunciato il prossimo ritorno della pandemia, l'obbligo di vaccinazione per tutti, a partire dagli anziani. Pazienza se il numero dei morti da Covid-19 è stato dovuto anche all'applicazione di protocolli medici errati, basati su una diagnosi errata dei malati di trombosi polmonari sottoposti a intubazione, così spinti alla morte o a subire gravissime lesioni ai polmoni. Tutte cose che sono accadute solo poche settimane fa, ma sembrano già archiviate, e per le quali probabilmente non vi saranno mai dei responsabili chiamati a risponderne, né meno ancora un'apposita commissione d'inchiesta che faccia chiarezza e dia un po' di pace e di verità a quelle povere famiglie martoriate. Ma questo fa parte del gioco. In un sistema sanitario abituato a chiudersi al riccio, a lavare i panni sporchi in casa propria, come ben sanno i parenti delle tante vittime di mala sanità, i quali sono scontrati con un muro di gomma ogni qualvolta hanno cercato di fare un po' di chiarezza sulle circostanze che hanno causato la morte o che hanno portato a subire lesioni gravissime ai loro cari ricoverati in ospedale, dove, attenzione, ogni anno muoiono per infezioni contratte durante la degenza circa 50.000 persone. Molto più dunque delle vittime presunte del Covid-19 in questa primavera. ma la cosa che lascia maggiormente perplessi è la docilità con cui quelli che sanno, quelli che hanno una qualche responsabilità verso la società, grande o piccola, hanno taciuto, hanno obbedito, si sono uniformati alle disposizioni provenienti dall'alto. Infatti la massa della popolazione si può dividere in due categorie, quelli che non sanno né hanno capito cosa realmente è successo e quelli che lo sanno e lo hanno capito. Dei primi, quelli che non sanno, c'è poco da dire. Si sono lasciati terrorizzare da quanto dicevano giornali, televisioni e quando si è in preda al terrore si è pronti e disposti a credere a tutto, ad accettare qualsiasi cosa. Ma sui secondi c'è tanto, anzi tantissimo da dire, perché hanno agito come degli sciacalli, o nel peggiore dei casi, come dei mercenari e questo vale anche per la chiesa. E anche se hanno agito per tutelarsi il posto di lavoro, la carriera, non di meno si sono mostrati indegni di quella fiducia che la società civile, a partire dai più indifesi e più fiduciosi, i bambini, gli anziani, aveva loro accordato. Per rendere più chiaro il discorso, prendiamo tre figure caratteristiche di questo momento di crisi, non solo morale, ma anche istituzionale. Il carabiniere, il medico e il prete. A. Specialmente nei mesi del lockdown prustringente, alle forze dell'ordine è stato dato ordine di far rispettare le norme dell'emergenza sanitaria. Mascherine, guanti, disinfettanti, distanziamento, niente messa per i cattolici, niente passeggiati per alcuno, neanche sotto casa. Questa era la consegna. E si sa che chi indossa l'uniforme è pagato per eseguire gli ordini, non per metterli in discussione. Tuttavia c'è modo e modo di applicare gli ordini e purtroppo si sono visti i carabinieri, i poliziotti, i vigili urbani accanirsi contro i cittadini che avevano violato le disposizioni vigenti. Seppure di pochissimo li si è visti irrogare multe salatissime a gente che era andata a fare la spesa a cento metri fuori dal proprio territorio comunale, oppure a persone che passeggiavano in un bosco o in riva al mare, sole solette. L'elenco potrebbe eseguitare per pagine e pagine e sono tutti fatti che abbiamo visto e conosciuto direttamente. Ora sappiamo per certo che in molte stazioni dei carabinieri veniva dato l'ordine alle pattuglie di non rientrare la sera senza aver fatto un certo numero di multe, così come sappiamo di alcuni che si sono rifiutati. Senza dubbio molti si sono sentiti gravemente a disagio e non è per questo che si erano arruolati. Altri però hanno agito come una forza d'occupazione mostrandosi insensibili, sprezzanti davanti a qualsiasi protesto o giustificazione. Tante le assurdità, troppe le assurdità, mentre venivano multati i commercianti che manifestavano per poter riaprire le loro attività ben distanziati, tutti con la mascherina, i soliti immigrati islamici, più o meno clandestini, potevano tranquillamente assemblarsi per celebrare il Ramadan, quando addirittura erano lasciati liberi di spacciare droga e delinquere in vario modo praticamente indisturbati. B. Il caso dei carabinieri. Lungi da noi di voler fare tutta l'erba un fascio, ma è innegabile che chi si sente la categoria medica nel complesso ha deluso. Molti di noi sanno che la categoria medica ha deluso e molto. I medici della mutua continuano a ritirare lo stipendio in base al numero dei pazienti, però di fatto la maggior parte di loro non li visita più. Fa una telefonata, per telefono si descrivono i sintomi, per telefono si ricevono le indicazioni, per andare in farmacia con la ricetta inviata al computer. Insomma, il paziente medio si sente abbandonato. I medici ospedalieri si sono regolati allo stesso modo dei tutori dell'ordine. Hanno applicato il protocollo senza discutere, anche quando esso appariva palesemente sbagliato. E che dire dell'aver registrato tanti certificati di morte come dovuta al codice 19, quando sapevano benissimo che la vera causa del decesso, era un'altra patologia. Che dire poi della strana circostanza che gli ospedali che hanno registrato il maggior numero di decessi da Covid-19 sono stati premiati? Eh sì, non lo sapevate? Sono stati premiati con cospicue donazioni. I preti? Amma mia! Sono quelli che hanno mostrato meno coscienza di tutti. I vescovi hanno imposto loro non solo di rispettare tutti i decreti del governo illegittimi quanto lesivi del concordato della Stato e Chiesa. Ma sono andati assai oltre. Hanno sospeso tutte le messe, compresa quella di Pasqua. Hanno imposto la comunione sulla mano, violando la libertà di coscienza dei fedeli. Alcuni vescovi hanno abbandonato i sacerdoti a se stessi. Un prete è perfino stato sottoposto arbitrariamente al trattamento sanitario obbligatorio. Hanno ufficiato il sacrificio equaristico con guanti, pinzetti, e come se Gesù fosse infetto. Che squallore! bene, cari amiche e cari amici. Pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.